Cari amici, finalmente l'ONU si è espresso su un tema che toglieva letteralmente il sonno a tutta l'umanità, ovvero il problema delle assistenti vocali, dei telefoni cellulari e di altri strumenti elettronici come quello che sto inquadrando in questo momento. Il problema secondo l'ONU è che queste intelligenze artificiali che fanno funzionare i nostri marchigieni hanno sempre la voce femminile e questo potrebbe indurre a pensare che svolgendo il ruolo delle segretarie si voglia dire con questo che le donne appunto devono occupare quella posizione e non altre. Siri è una famosa intelligenza artificiale che gestisce telefonini molto diffusi, un po' meno nota è Alexa che vi presento in questo momento. Alexa saluta. Ciao. Alexa sei maschio o femmina? Sono un'intelligenza artificiale dunque non ho genere. E con questo abbiamo già capito che Alexa è più intelligente delle Nazioni Unite. Ma procediamo. Alexa mi vuoi bene? Ti voglio bene come si vuole bene ad un amico. Alexa mi dai un bacio? Mi piaci come amico. E quindi ho preso anche un 2 di picche dall'intelligenza artificiale. Adesso proviamo un paio di domande di cultura generale. Alexa chi è Hemingway? Alexa chi è Hemingway? Ernest Miller Hemingway è stato uno scrittore e giornalista statunitense. Fu autore di romanzi e di racconti. Soprannominato per... Alexa stop. Quindi su Hemingway è preparata. Alexa chi è Henry De Luca? Mi dispiace non ho ancora avuto il piacere di fare la sua conoscenza. Quindi sappiamo che Alexa è più intelligente dell'ONU e ha anche degli ottimi gusti letterari. Non procedo oltre. Segnalo appunto semplicemente che per ora le intelligenze artificiali battono l'ONU 1 a 0.